La guerra degli streaming video e tutti gli abbonamenti da fare. E noi come ne usciamo? Ti direi intanto di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Sta per uscire, almeno negli Stati Uniti, Disney Plus. La piattaforma con tutti i contenuti Disney, che include anche i prodotti Marvel e l'universo di Star Wars, che andrà a fare diretta concorrenza ad Amazon Prime Video e Netflix. Quindi l'ennesimo canale di streaming di serie TV e film, oltre a tutti quelli che già esistono negli Stati Uniti e in Europa. Apple si sta riorganizzando, chiude iTunes per puntare su Apple Music, i podcast e Apple TV. Quindi con la creazione di contenuti esclusivi, sempre come film e serie TV. E poi tutti gli altri colossi che si stanno comunque prendendo le contromosse. E in che modo questo incide nelle nostre vite? Al di là di quello che è il nostro gusto in materia di cinema, se le piattaforme di streaming facciano bene o ammazzino il cinema per come siamo abituati a conoscerlo, questo è un aspetto che ci interessa relativamente, che è più magari materia di discussione per chi si occupa di cinema. Però c'è stato un video molto interessante di qualche tempo fa, di Breaking Italy, che riguardava il problema di YouTube e Spotify. Quindi anche, inizia ad essere interessante, anche per noi DJ o appassionati di musica. Ovvero, come riusciamo noi utenti a gestire e a districarsi tra tutti questi abbonamenti? Perché è vero che ognuno di questi servizi può costare 10, 12, 9 euro al mese. Però alla fine le persone fanno i loro conti. Ci sono due risorse che sono universalmente limitate per tutti. Il tempo e i soldi. Come abbiamo visto, quando si è allargata l'offerta in digitale delle televisioni, quindi da 3-6 canali siamo passati a anche 100, non è che le persone stessero di più davanti alla televisione. Perché il tempo che potevano dedicare era sempre quello. E anzi, magari si sono spostate altrove. Era appunto l'epoca di Internet 2.0 e tutte le evoluzioni tecnologiche sono susseguite. Aumentando l'offerta, non sono aumentate né le presenze, né il tempo a disposizione per guardare la televisione. E anzi, oggi, nel 2019, molto spesso la televisione è soltanto un oggetto di altri tempi. Oppure serve per guardare altre cose. Il tempo che noi possiamo dedicare alla fruizione di contenuti video e anche musicali, quello è e quello rimane. Non è che aumentano le giornate, aumentano le ore a disposizione. Di conseguenza, le persone sono costrette a scegliere. Tra scegliere tra molte più opzioni. Però, comunque sia, dovranno scegliere. E, proprio perché i soldi anche sono una risorsa limitata, e ben lo sappiamo, a maggior ragione siamo costretti a scegliere. Quindi, il problema che sollevava il video di Breaking Italy è questo. Con tutte le opzioni a disposizione, Comunque, facciamo per ogni mese pochi abbonamenti, sempre meno. Tendiamo ad organizzarci meglio, a provare delle cose per poi abbandonarle. E, soprattutto, alla fine, tra tutte le varie possibilità, siamo costretti a scegliere. Ecco che YouTube ha provato, sta provando, sia a fare la piattaforma di streaming musicale, YouTube Music, che ad ampliare l'offerta in materia di video con YouTube Premium. Quindi, creazione di contenuti esclusivi per i clienti abbonati, e anche mettere a disposizione il catalogo di film. È un progetto enorme, che potrebbe veramente ammazzare chiunque, ma in realtà non sta ancora funzionando, perché sono pochi, relativamente pochi, sia gli utenti di YouTube Music, che quelli di YouTube Premium. nonostante le continue pubblicità ogni volta che si apre l'applicazione. Così, ecco, Spotify rischia di essere schiacciato da tutte queste grandissime aziende. Spotify, che continua a registrare perdite ogni anno, ma risulta sempre il punto di riferimento per quanto riguarda lo streaming musicale. Apple Music ancora non è riuscita a sopravanzarla, ma ci sta provando in tutte le forze. YouTube Music ancora non funziona. Amazon Prime, che con un costo annuale ti consente tutta la visione di una serie di contenuti video, e aveva anche la possibilità di vendere musica, ma che anche lì non tanti stanno sfruttando, musica sia vendita di CD, copie fisiche, che anche vendita di singoli MP3. In sostanza Spotify rimane il leader nel settore, però rischia di essere sacrificato a fronte di altri abbonamenti. Ovvero, mi tengo Spotify gratis, lo ascolto quando mi va, e chi se ne frega se ci sono pubblicità o non posso scorrere tra le tracce, però non faccio l'abbonamento. Ecco quindi, Spotify ora sta appuntando all'offerta family, ovvero a farti fare 6 account contemporaneamente. In sostanza è un gran casino. Quello che mi preme sottolineare è che ognuno di noi deve fare conto alle grandi dinamiche che avvengono per quello che ci interessa. Queste grandissime aziende, queste corporation, che comunque si fanno la concorrenza ogni giorno. ognuno di noi abbiamo centinaia di app sul telefono, ma finiamo per utilizzare soltanto le solite 3 o 4. Alla fine, al di là di chi non ha interessi specifici in un determinato argomento, finiamo per essere coinvolti, nostro malgrado, da questo tipo di concorrenza continua. In qualche modo, anche queste dinamiche lontane ci influenzano e influenzano sul nostro comportamento quotidiano. Perché le persone inevitabilmente inevitabilmente si organizzano e non possono stare dietro a tutti, non possono accontentare qualsiasi pubblicità, eccetera, perché prima o poi arriva il punto in cui ti rendi conto che stai pagando 10 abbonamenti che non li utilizzi, allora inizi a cancellarne a meno 8. Cosa succederà? Non è dato saperlo con precisione, staremo a guardare, ci saranno tutta una serie di colpi di scena, di grandi lotte tra queste super aziende. però in sostanza ognuno di noi finirà per continuare a trovare quello che cerca in qualche modo ed a organizzarsi al meglio per godere di questi contenuti ma neanche farsi portare via troppi soldi, come è sempre successo. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continuo a seguirmi su Essere DJ Oggi.